Gentili telespettatori, buona giornata. Come abbiamo visto nel video precedente, di nuovo la Lega per la seconda volta in due giorni vota contro il suo stesso governo a fianco di Fratelli d'Italia, dell'alleato. Naturalmente Forza Italia vive su un altro pianeta, Forza Italia sta assolutamente con la sinistra, sta assolutamente con Draghi, non ha nessun dubbio su Green Pass, Forza Italia è per l'obbligo vaccinale, Forza Italia è per il Green Pass obbligatorio per qualsiasi cosa e Forza Italia è una forza, forse dovremmo chiamarla Forza PD, Forza Italia è diventata Forza PD o Forza Sinistra, però così scelgono loro. Così, tornando alla notizia principale, di nuovo la Lega vota con Fratelli d'Italia contro il governo sulla discussione del decreto Green Pass, quello del 6 di agosto. La linea della Lega è far andare su tutte le furie gli alleati di governo, non credo che sia così. Enrico Letta, il segretario del partito che si definisce democratico, parla senza esitazioni di limite ampiamente superato. Nell'aula di Montecitorio, cioè la sede del Parlamento per quanto riguarda la Camera dei Deputati, sapete c'è Palazzo di Montecitorio dove c'è la Camera dei Deputati, Palazzo Madama dove c'è l'aula del Senato. Siamo a Montecitorio, si consuma un altro tragicomico dramma in Parlamento. La Lega vota con Fratelli d'Italia, si schiera con la destra, quella vera, di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Vota a favore di due emendamenti delle opposizioni AC e FD, Fratelli d'Italia. Per eliminare l'obbligo della certificazione verde ai minorenni, ora in vigore dai 12 anni in su. Quindi per eliminare l'obbligo, cancellare l'obbligo dai 12 ai 18 anni. Entrambe le proposte di modifica vengono bocciate come era ovvio. Una a scrutinio palese e l'altra a scrutinio segreto. Quindi il secondo giorno consecutivo la Lega contro il suo stesso governo. E fa bene. Anche sul secondo degretto Green Pass, quello che stende l'obbligo del certificato nelle scuole, università, trasporti e lunga percorrenza, il partito di Matteo Salvini si muove in difformità dal resto della maggioranza e diserta la seduta della Commissione, spiegando che non è scontato il sì dei lechisti al decreto, riferisce Di Giorgi, capogruppo del PD in Commissione. Enrico Letta parla di linea ambigua, di un partito inaffidabile. Dice che il limite questa volta è stato ampiamente superato. Mentre Giuseppe Conte chiede di fare chiarezza. Da Forza Italia dicono nessun problema Lega, al momento mi sembra che la maggioranza non abbia problemi, stiamo lavorando tutti insieme. Dice la Gelmini. Ma che stai dicendo? Ma cosa dici? Allora, in Forza Italia hanno la smania di parlare, di mettersi in mostra perché tutti cercano di essere gli eredi di Silviuccio Caro. Tutti ci sentono Berlusconi 2 la vendetta. La Gelmini, l'altra com'è che si chiama? Una è la Gelmini, l'altra la Bernini? Forse, non sono sicuro perché a volte le confondo. Per me sono così anonime questi deputati che addirittura se li vedo li confondo il nome. Gelmini, Bernini, bah. Vabbè, insomma, loro dicono nessun problema Lega. Come nessun problema? Ma cosa dite? Voi che dovevate fare la fusione tutti per uno, uno per tutti, un solo speaker che parla a nome di Lega e Forza Italia. Come? La pensate assolutamente agli antipodi su tutto? Forza Italia e Lega la pensano diversamente? ma ci uniamo in Parlamento così parliamo una sola voce? Tutti zitti? Perché noi la pensiamo uguale quindi ci mettiamo uno speaker? Ma che state a dire? Eh, vabbè. L'EU liberi e uguali, non ho mai capito liberi da che cosa e uguali a chi, rimarrà un mistero, dice l'opposizione della Lega sul Green Pass, filo, no vaccino, è un problema per la maggioranza che sostiene il governo Draghi, dice il capogruppo Federico Fornaro. In realtà non è un problema, perché il governo Draghi, come avete visto, i decreti li trasforma in legge lo stesso, che ci sia la Lega o no. Nel governo avete visto che la maggioranza ce l'ha lo stesso, il dottor Draghi, no? La posizione di Salvini e Meloni contro il Green Pass e di una parte della sinistra per me è assurda, afferma Matthew Renzi. Ma Salvini tira dritto, dice noi tireremo dritto e respinge l'accusa di ambiguità, garantendo di aver informato chi di dovere sui voti leghisti e riferisce di aver avuto un colloquio con il premier Mario Draghi che gli avrebbe assicurato che il Green Pass non sarà esteso a tutti i lavoratori, ma solo ad alcune categorie. Attenzione, attenzione, come vi dicevo ieri, come vi dicevo ieri, i titoli di giornali Salvini assicura, Salvini assicura, Draghi mi ha detto che il Green Pass non sarà esteso ai lavoratori, no, non sarà esteso a tutti i lavoratori, ma solo ad alcune categorie. Eh, allora che ci stiamo prendendo per il giro, mi state prendendo per il, mi state prendendo in giro, eh? Allora, Salvini sta dicendo, Draghi mi ha assicurato che il Green Pass non sarà esteso a tutti i lavoratori, ma solo ad alcune categorie, perché sui giornali c'era scritto un'altra cosa fino ad oggi, eh? Che Salvini dice Mario Draghi ha escluso l'estensione del Green Pass. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, eh? Non non è vero, perché la realtà è un'altra, quindi verrà esteso ad alcune categorie di lavoratori, non a tutti per il momento, eh? Attenzione, per il momento, ma verrà esteso a lavoratori di bar, ristoranti, cinema, discoteche purtroppo sono ancora chiuse, purtroppo per loro io non ci vado più in discoteca, eh? E poi per quelli che lavorano con i treni, metropolitane, autobus, eh? Ecco, il Green Pass verrà esteso a delle categorie, ma non a tutti i lavoratori, quindi Draghi non ha assicurato a Salvini che il Green Pass non verrà esteso, è una bufala, non è vero, non è vero. Infatti domani si riunirà il Consiglio dei Ministri per estendere l'obbligo della certificazione verde, ma per ora solo nelle scuole, ai lavoratori delle mense e delle pulizie. Vedremo se sarà solo ai lavoratori delle scuole, delle mense e delle pulizie. Beh, poi ve lo racconto nel prossimo video. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.